Ciao a tutti, puntata 19 di In Principio, siamo finalmente giunti alla conclusione di quel percorso, alla fine di quel cerchio che abbiamo tracciato qualche mese fa, cominciando quindi a parlare dell'apologetica cristiana e della letteratura cristiana antica. Ebbene, con la puntata di oggi, quindi dedicata ad Agostino di Ippona, andiamo quindi a chiudere, diciamo ancora una volta, questo percorso. Fondamentalmente Agostino è importante anche perché, non solo appunto per la nostra puntata e quindi per questa chiusura del cerchio, ma perché con Agostino va anche a concludersi quel lungo periodo fatto di quasi quattro secoli in cui ecco, vi è stato appunto questo periodo apologetico, la cosiddetta patristica cristiana, cioè la filosofia cristiana antica. Agostino, ultimo esponente e il più importante esponente di questa filosofia cristiana, dicevo va a chiudere questo periodo e apre ufficialmente le porte alla filosofia scolastica, cioè la filosofia cristiana medievale, che avrà come massimi esponenti Anselmo da Osta, Tommaso d'Aquino, Guglielmo d'Aocam, ovviamente autori che non tratteremo in questo percorso che, ripeto, si concluderà con questa puntata, ma magari poi in futuro, con le future puntate di in principio, magari toccheremo anche alcuni punti della scolastica. Andiamo subito al punto, Agostino, dicevo, nasce, quindi un po' di contesto storico come al solito, nasce a Tagaste nel 354 d.C., e studia quindi i classici, quindi si avvia allo studio dei classici, un pochino come fece il suo antico predecessore Taziano e molti dei suoi predecessori, e diventa anche professore di retorica a Cartagine. Oltretutto per Agostino è sempre stato importante un suo punto fisso, un suo chiodo fisso, e lo vedremo anche nei punti che svilupperemo dopo, il problema del male, cioè il problema dell'origine del male del mondo. E il problema è che si ponevano molti autori cristiani, soprattutto in un impero che stava sempre di più diventando cristiano, in cui il Dio unico, ricordate l'editto di Tessalonica della puntata precedente, il Dio unico si poneva come l'unico Dio, il Dio vero, il Dio sommo bene, e che quindi in che modo permetteva effettivamente il male nel mondo. Ed ecco, Agostino effettivamente trova una prima spiegazione entrando a far parte di un movimento settario che era il manicheismo del maestro Mani, che aveva molti punti in contatto anche con il futuro cristianessimo a cui poi si all'acera Agostino. Ebbene, il manicheismo aveva effettivamente una spiegazione all'origine del male, aveva una visione dualistica della realtà. Ancora oggi, nel linguaggio comune, diciamo, hai una visione manichea della vita, quindi solo bianco, nero, nessuna sfumatura di grigio. Ebbene, così erano i manichei, nel senso vi era un bene, un sommo bene spirituale a cui si poteva quindi accedere, poi vi era un male materiale, quindi insito nella realtà materiale, da cui bisognava invece rifuggire. Agostino però, ecco, il corso della sua vita, quindi nel corso della sua attività di professore di retorica, andando anche a Roma, quindi girando, quindi l'impero, giunge a Milano dove incontra il vescovo Ambroggio e qui abbraccia poi il cristianessimo, quel famoso cristianessimo cattolico, divenuto ormai tale ufficialmente all'interno dell'impero. E qui Agostino inizierà a studiare quindi non solo retorica, ma anche filosofia e anche teologia e tantissimi saranno i suoi trattati, ovviamente non li andremo ad elencare tutti, ma per esempio sono importanti, e questo lo vedremo dopo, i trattati contro per esempio la dottrina del pelagianesimo, quindi la dottrina di Pelagio. Queste informazioni ovviamente ci giungono non da un soscritto biografico, autobiografico in questo caso, ma informazioni sue biografiche ci giungono però da un soscritto che è questo, quindi le confessioni. Questa è l'edizione della Burr, una buona edizione, anche se vi consiglio quella curata dell'edizione di Paolino e che ha sempre un apparato di note critiche molto corposo, molto interessante. Ebbene, nelle confessioni vediamo questa evoluzione anche del pensiero di Agostino e anche parte della sua vita. Però non ci interessa la vita di Agostino, sostanzialmente abbiamo, come ho già detto, contestualizzato un pochino quello che era il periodo, ci troviamo quindi in un momento specifico della storia, di questa storia che abbiamo narrato una volta precedente, quella dedicata all'Eusebio di Cesarea, in cui il cristianesimo si sta ponendo come unica religione di Stato e si pone quindi come cristianesimo cattolico, quindi estremamente rigorista. Perché però questa puntata è importante soprattutto per descrivere quello che è il pensiero di Agostino? Perché attraverso il pensiero di Agostino, attraverso quella che è la sua filosofia, noi possiamo ben comprendere come sta mutando la società all'interno dell'impero e quindi come sarà la società occidentale, soprattutto occidentale, nei futuri almeno mille anni, ok? Quindi come si porrà esattamente il cristianesimo che monopolizzerà, possiamo dirlo tranquillamente, senza sbagliare, monopolizzerà ogni aspetto della vita dell'uomo e in che modo cambierà la figura stessa dell'uomo all'interno di questa società oramai cristianizzata. I punti che ovviamente voglio sviluppare con voi sono quattro. Il primo dedicato appunto all'origine del male, quindi che spiegazione si dà Agostino, per questa appunto origine del male, il secondo punto è legato al primo, cioè il concetto di libertà inizio nell'uomo, quindi il libero arbitrio, il terzo punto invece sull'eternità, ovviamente legata a Dio, rapporto fra Dio, creazione e eternità, e il quarto punto invece il rapporto fra fede e ragione. Il primo punto, che è appunto quello dell'origine del male, è un puntiglio, un chiodo fisso che è sempre stato insito nel pensiero di Agostino, ma è sempre stato fisso anche in quella che sarà la filosofia cristiana e quindi nei futuri anche autori cristiani. E cioè in un mondo cristianizzato, in un mondo dove vi è quindi l'esistenza effettiva di un Dio creatore, allo stesso tempo che è un Dio ingenerato, increato, inconoscibile, eterno, ogni presente, ogni potente, che incarna, secondo quei modelli neoplatonici, incarna il sommo bene, l'essere completo per eccellenza. Ebbene, come è possibile che vi sia però l'esistenza del male nel mondo? Se noi vediamo gli autori cristiani antichi, si era dato in qualche modo una spiegazione sull'esistenza del male, una spiegazione che non ha mai effettivamente convinto più di tanto Agostino, il quale, trovando effettivamente poi una soluzione, così getta a capofitto sia nelle categorie filosofiche che in quelle retoriche e trova, ripeto ancora una volta, una spiegazione, una soluzione sul problema del male, affermando che in realtà il male non esiste. Per Agostino il male, e qui attenzione ai termini che vengono utilizzati perché sono termini utilizzati in maniera sapiente, quindi non sono termini messi così a casaccio, perché appunto ricordiamo che Agostino è un retore importantissimo, quindi sa cos'è esattamente l'artificio retorico, l'uso sapiente delle parole. Ebbene, dicevo, il male non esiste secondo Agostino, ma il male è assenza di bene. Cioè in un contesto di sommo bene, di essere pieno, che incarna Dio, ebbene, in quei punti in cui Dio magari non riesce ad arrivare, oppure dove Dio non viene accolto, vi è quindi questa assenza di essere, questa assenza di bene, è lì, è insito il male. Ma ciò non comporta la sua esistenza, dice Agostino, ma ciò comporta l'assenza appunto di bene. L'assenza di bene, quindi causa e conseguenza di male. Per capirla ancora meglio, noi per esempio entriamo in una stanza, abbiamo una luce che illumina questa stanza, in questo caso una luce che sta illuminando me in questo momento, ok? Se noi dovessimo spegnere la luce, ecco che giunge l'oscurità in questo caso. Abbiamo quindi un'oscurità che in realtà non esiste, ma che è presente nei momenti in cui manca la luce, vi è assenza di luce. Qui non vi è un'esistenza concreta, reale del male, o in questo caso dell'oscurità, ma vi è una sua presenza nel momento in cui vi è assenza del suo contrario, ok? Per dirla ancora meglio, perché il male è in realtà non esistenza, quindi non esiste, perché il male è in realtà non essere. In questo caso Agostino utilizza delle categorie presocratiche, quella sull'essere e il non essere, e afferma l'essere è, in quanto è essere, l'non essere non è, in quanto non essere, quindi non esiste, ok? Quindi questa è la spiegazione che si dà Agostino, ed è una spiegazione, ripeto, insita in Agostino. Il concetto poi di male evolverà nel corso dei secoli, ma questa è la spiegazione che si è data Agostino. E come si lega ovviamente con il concetto di libertà? Secondo punto, libertà e libero arbitrio. Il libero arbitrio è un concetto che contraddistinguerà la filosofia cristiana insieme al trinitarismo, insieme al concetto di male, insieme anche al concetto di Dio. Per esempio in Tommaso d'Aquino vi sono le cosiddette prove sull'esistenza di Dio, ma magari su quello poi dedicheremo una puntata specifica. Ebbene, Agostino dice, nell'uomo è insita la libertà di scelta, cioè la scelta di compiere il bene oppure di allontanarsi da quel bene e quindi compiere azioni malvagie. Agostino fa anche una differenza in questa sorta di calderone di male metafisico fra male fisico e potremmo dire male più spirituale. Il male fisico è la malattia che, dice Agostino, è in qualche modo necessaria, che fa parte insomma di un grande progetto divino e poi abbiamo in questo male spirituale che invece è il male dell'anima, quindi questa assenza di bene è insita in noi. Ma com'è possibile in questo caso compiere il male, dice Agostino? Cioè com'è possibile che vi è potenziale assenza di bene nei soggetti, quindi nelle persone? Perché tali persone nascono in realtà con un seme maligno, dice Agostino, che è originario da una colpa primigenia derivante dai nostri progenitori, in questo caso da Medeva, che è il famoso peccato originale. Agostino è il primo vero autore cristiano dopo Paolo che certifica, che dogmatizza e che rielabora questo concetto di colpa originaria. Il professor Daniele Garrone, uno dei più importanti italiani, dice, ecco scusate perché non è passata miglior vita, dice effettivamente non si sa Paolo da dove abbia preso questo concetto di colpa originaria che è presente nella lettera dei Corinzi e nella lettera dei Romani e in che modo effettivamente lo abbia elaborato. Quindi è stata, potremmo dire, senza paura di essere contraddetti, una vera e propria invenzione di Paolo, aver trovato una spiegazione all'origine del male. Una spiegazione che ha trovato concorde Agostino, lui che è sempre stato fissato appunto su quest'origine del male e quindi darne comunque un'origine storica. E quindi nella dottrina paolina trova nel peccato originale una giustificazione, una spiegazione, una spiegazione che rielaborerà e tenderà poi a dogmatizzare. Sarà un vero e proprio dogma quest'origine del male insito in questa colpa originaria derivante dalla disobbedienza di questi nostri, potremmo dire, progenitori. E dice anche un'altra cosa Agostino, è insito nell'uomo il libero arbitrio. Cioè nel senso la possibilità di scegliere, che è diverso dalla libertà che poi è la scelta che effettivamente compie l'essere umano. E dice anche che in Dio non vi è il libero arbitrio. Dio magari concede il libero arbitrio, ma Dio non ha il libero arbitrio. Ciò non significa che Dio non sia libero, dice Agostino. Attenzione. Ma le azioni compiute da Dio sono, e anche qui il termine utilizzato è sapiente, è evoluto, è ricercato, Dio compie azioni necessarie. Cioè mentre l'uomo compie azioni libere insite nel concetto di libero arbitrio e insite nella libertà che possiede l'uomo, e quindi le azioni libere che cosa comportano? Azioni potenzialmente buone, azioni potenzialmente cattive. Le azioni di Dio invece sono azioni necessarie. E cosa significa necessarie? Significa che sono finalizzate tutte quante all'essenzialità, al bene. Cioè sono azioni tutte quante utili. In questo caso Dio si coglie all'interno di quella perfezione perché sua ogni azione non è meccanica, quindi Dio non è una macchina che compie un'azione che va da A a B, ok? Ma tutte le azioni di Dio, perché sono insite nella sua natura, sono necessarie. Mentre quelle dell'uomo sono potenzialmente buono o malvagi, in quanto nell'uomo è insite il libero arbitrio. C'è la possibilità di scegliere il bene e il male. Dio potenzialmente non può scegliere il bene e il male, in quanto, ripeto anche una volta, invece le sue azioni sono necessarie tutte, in maniera indiscriminata. Cioè Dio non può sbagliare in questo senso. E quindi come si pone l'uomo nei confronti di Dio? L'uomo in quanto essere peccaminoso, in quanto essere quindi malvagio potenzialmente sin dalla nascita perché ha dentro di sé questa macchia originaria, per potersi salvare non può far soltanto fede fronte alle sue forze. Di qui il contrasto, la polemica con la dottrina del pelagianesimo, che vedeva invece nelle azioni dell'uomo l'unica possibilità di potersi effettivamente salvare, Agostini invece dice no, questo non è possibile in quanto l'uomo per potersi salvare non può farlo soltanto con le sue forze, ma può farlo soltanto attraverso la grazia divina. C'è l'uomo volontariamente, attraverso quindi il libero arbitrio, attraverso la libertà, deve volgersi verso Dio, deve richiedere la grazia divina e soltanto la grazia divina può salvarlo. E in un contesto ovviamente cristiano, cristianizzato, quindi un impero cristianizzato, cosa significa volgersi a Dio? Cioè significa che l'uomo può volontariamente e autonomamente prendere le scritture, leggere, trovare un significato specifico che può salvarlo e quindi volgersi volontariamente a Dio in maniera autonoma e in maniera libera? Assolutamente no! Questo significa che se tu uomo decidi di volgersi verso Dio, devi farlo attraverso quelli che sono i suoi intermediari, in questo caso la Chiesa, in questo caso i sacerdoti. Si sta ponendo quindi un'importante svolta all'interno anche della società del tempo, in quello che poi verrà soltanto ricordato come l'impero romano, ma quindi la società occidentale. L'uomo sempre di più è meno indipendente, sempre più dipendente nei confronti della divinità e soprattutto meno emancipato. Cioè la persona, uomo o donna che sia, la persona è sempre meno emancipata, la persona è sempre più bambina, tende a non crescere, tende a non responsabilizzarsi. Perché? Perché su ogni azione, se vuole essere salvato ovviamente, deve sempre tendere al divino, attraverso che cosa? Attraverso l'ausilio e l'aiuto della Chiesa. Tu uomo non puoi comprendere effettivamente le scritture perché la lettura letterale, lo sappiamo benissimo, non ti può aiutare. Devi quindi comprendere il significato del ricordo delle scritture per poterti salvare, ma soltanto noi Chiesa conosciamo la chiave interpretativa delle scritture e soltanto noi Chiesa possiamo dirti in che modo tu debba salvarti. E qui si pone anche un altro concetto, in quanto l'uomo che si deve salvare e che si può salvare deve compiere azioni buone, ovviamente azioni buone secondo quelli che sono i dettami della Chiesa. Ma non si può nemmeno salvare l'uomo che non compie il bene. Attenzione anche qui perché il concetto è importante. Non sto parlando dell'uomo che compie azioni malvagie, ma l'uomo che non compie il bene. Possono sembrare sinonimi, ma non lo sono. L'uomo che non compie il bene è l'uomo che non compie ovviamente il bene, ma che non compie neanche azioni malvagie. Potremmo dire è quell'uomo che non prende una posizione, quell'uomo che vive la sua vita in maniera totalmente autonoma senza preoccuparsi degli altri, vivendo una vita, ripeto ancora una volta, tranquilla, autonoma, rispettando le leggi, pagando le tasse, tutto quello che vuoi, ma senza compiere per forza il bene, ma allo stesso tempo non compiendo il male, quindi senza danneggiare altri. Ebbene questo soggetto è anche condannato dalla Chiesa, addirittura Dante, secondo quella visione anche tomistica della vita, della realtà, lo mette nel giro degli ignavi, cioè coloro che non prendono mai una posizione. Anche questi sono soggetti da condannare, perché l'uomo per salvarsi deve soltanto, ripeto ancora una volta, compiere il bene, quel bene che però è definito dai canoni della Chiesa, dai canoni teologici del cristianesimo. Quindi anche qui il concetto di libertà, di libero arbitrio è molto arbitrario, è molto, potremmo dire, farlocco, perché in realtà io non ho libertà effettivamente di scegliere, io potrei anche essere una brava persona, ma decidere di non essere per forza buono come mi si vuole imporre, ma neanche danneggiare altri di essere cattivo. Ma non posso effettivamente scegliere questo perché se devo essere salvato, devo per forza seguire quella strada che mi indica la teologia cristiana. Quindi anche in questo caso è una libertà, ripeto, molto, molto limitata, molto, molto di facciata. Anche in questo caso come si evolve la società? Abbiamo una società, ripeto ancora una volta, dipendente molto dal divino, una società che non è in realtà matura e non verrà mai effettivamente fatta maturare. Siamo lontani dall'ideale ideale di buon cittadino romano. Sei buon cittadino romano e quindi accettato dalla società se tu ti comporti da buon cittadino, se paghi le tasse, se partecipi alla vita attiva della città. Qui invece cambia tutto completamente. Devi essere un buon cristiano se vuoi essere buon cittadino. Lo abbiamo visto nella puntata precedente con l'edito di Ressalonica. Sarà chiamato cristiano cattolico chi assolverà questi doveri, a questi compiti. Chi non è cristiano cattolico sarà considerato stolto eretico e verrà addirittura perseguito dalla autorità giudiziata, dall'autorità statale. Quindi ecco come sta evolvendo la società ed ecco in che modo sempre di più verrà condizionato per almeno mille anni a questa parte la vita dell'essere umano. Ma in questo modo come sta evolvendo anche la dottrina? Lo vediamo nel rapporto fra Dio, la creazione e l'eternità. Ebbene abbiamo detto che Dio è eterno e Magostino si pone un problema allo stesso che sia da post origine. Ma se Dio è eterno ma noi siamo l'unica vera creazione, allora in questa lunga retta infinita che è appunto l'eternità, ebbene cosa ha fatto Dio prima della nostra creazione. Non si può certo parlare di un Dio inoperoso, questo è impossibile, inimmaginabile. Origine, e non l'abbiamo visto nella puntata a lui relativa, aveva trovato una soluzione parlando di una creazione abeterna, cioè una creazione eterna continua. Noi, la nostra creazione è soltanto una di tante creazioni che ci hanno precedute e poi si susseguiranno nel corso dell'eternità. Cioè Dio crea eternamente, non è mai inoperoso. Ovviamente questo è stato poi un concetto condannato dall'ortodossia perché andava in qualche modo a sminuire l'azione salvifica del Cristo. Agostino trova un'altra soluzione. Cosa dice Agostino dice che il tempo, che sembra essere superiore a Dio, cioè se Dio lo si definisce eterno, allora il tempo è considerato come superiore a Dio. No, il tempo è subalterno a Dio. Cioè Dio travali che il tempo. La concezione eterna che noi abbiamo di Dio non è altro che la nostra concezione è legata a un concetto di tempo che non è altro che è una creazione di Dio. Quindi addirittura Dio che trascende il tempo. Quindi abbiamo anche questa evoluzione di Dio, un Dio sempre di più omnipotente, un Dio sempre di più lontano dagli schemi umani, lontano dall'umanità. Quindi pensiamo anche all'evoluzione di Dio. Si è partiti da Yahweh, che nella Torah, tra le tante disposizioni che dava al popolo di Israele, diceva prendete un piolo, uscite fuori dall'accampamento per espletare i vostri bisogni corporali, ricopriteli con la terra. Non fate questo all'interno dell'accampamento perché io Yahweh, Elohim di Israele, Dio di Israele, cammino fra di voi, cammino all'accampamento e non voglio calpestare, potremmo dire così, le vostre indecenze. Addirittura un Dio che si preoccupa di non calpestare, quindi un Dio molto umano. Se partiti da questo, quindi un Dio presente, umano, materiale, un Dio che poi incarna, infine ad Alessandra, l'abbiamo visto nella sua partita relativa, nelle prime puntate di In principio, incarna invece l'essere filosofico, cioè quindi che nella Septuaginta si trasforma nell'essere filosofico, da io sono colui che sono, diventa io sono colui che è, ego e mi o ogni, io sono colui che è, quindi diventa l'essere filosofico, quell'essere, io sono l'essere. Poi nell'Apologia della Cristiana abbiamo visto un Dio che viene riconosciuto attraverso una teologia negativa, Dio che è increato, ingenerato, inconoscibile, infinito, quindi eterno, e poi un Dio che trascende addirittura l'eternità, trascende il tempo. E quindi anche in questo caso avremo un'evoluzione anche di Dio nella filosofia scolastica, ma è importante capire come anche il concetto di Dio va a cambiare, va a mutare. Quarto punto, ultimo punto, il rapporto fra fede e ragione. Agostino afferma che non vi è astio fra fede e ragione. Questo concetto l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato della scuola alessandrina, quando abbiamo parlato di Clemente e origine. Non vi è conflittualità fra fede e ragione, ma attenzione, nel momento in cui dovessero entrare in conflitto fede e ragione cosa succede? È la fede ad aver ragione, quindi è la fede a dominare. La ragione si pone, e questo è un concetto che verrà espresso ancora di più nella filosofia scolastica, è l'ancella della fede. Cioè la ragione si pone come gradino inferiore alla fede. E quindi afferma Agostino, la fede è importante perché bisogna credere per comprendere, ma comprendere per credere. Quindi la fede è, ripeto, il capisaldo vero di una dottrina della conoscenza. La conoscenza che insiste dentro di noi, ma che viene illuminata non dal lume della ragione, come potremmo dire noi oggi in questo momento, noi uomini contemporanei abituati al metodo scientifico, abituati quindi alle scoperte scientifiche, alla laicità. Per Agostino non è la ragione illuminare quindi il processo conoscitivo dell'uomo, ma è la fede. Dice Agostino, la ragione porta sì delle conoscenze che però devono, cioè l'obbligo, devono essere dimostrate. La fede invece porta dalle conoscenze che sono vere per principio, quindi devono essere credute vere come tali per principio, e solo dopo eventualmente devono essere dimostrate. Ma tu intanto per principio devi credere che sono vere. La verità di fede quindi viene anche qui imposta. E anche qui vi è il richiamo, per esempio, un altro autore che abbiamo visto precedentemente, che è Tertulliano. Tertulliano diceva, credo perché è assurdo, credo perché è assurdo io ci devo credere, per principio. E Tertulliano cosa diceva? Diceva che l'uomo deve accettare la sua condizione umile, servile, anche ignorante, e non gettarsi a capofitto nella curiosità, nella curiositas, cioè quindi nella conoscenza. E Agostino quindi in questo caso fa evolvere questa dottrina tertullianea e dice, la conoscenza è dentro di noi, ok, ma è la fede che la illumina. Quindi è la fede che ha il primato stesso e la conoscenza. E se noi vediamo, per esempio, la dottrina e la conoscenza di Platone, Agostino è un platonista, oltre che un neoplatonista, un neoplatonico, scusate, e la dottrina e la conoscenza di Platone affermava che la fede, cioè la pistis, era nel gradino più basso della dottrina della conoscenza, era l'episteme, cioè il logos, quindi la ragione ad essere nel gradino più alto della conoscenza. E vedete come le cose sono rovesciate, adesso è l'episteme, cioè la fede, ad essere il gradino più alto della conoscenza e la ragione ad essere sua ancella. Quindi vedete come il cristianesimo, a partire da Agostino, sta rovesciando completamente il tavolo, quindi il gioco sta cambiando, il monopolio del cristianesimo oramai è palesato. Quindi se noi volessimo riassumere i concetti che abbiamo detto fino ad ora, potremmo dire tranquillamente che da un punto di vista sociologico, sociale, l'uomo sempre di più si pone come un essere inferiore, viene posto come un essere inferiore, un essere addirittura malvagio sin dalla nascita, che deve riscattarsi per forza e che non può farlo con le sue sole forze. Siamo lontani quindi da quell'ideale, per esempio, di eroe ellenico e con le sue forze, anche con l'aiuto degli dèi, ma soprattutto con le sue forze riusciva a raggiungere le alte vette del mondo, a raggiungere il traguardo. Qui l'uomo invece nel cristianesimo di Agostino, nel successivo anche cristianesimo, l'uomo è posto come essere umile, essere peccatore sin dalla nascita, che ha bisogno per forza di Dio e dell'azione salvifica di Dio, con l'assistenza ovviamente all'intermediario che è la Chiesa. Quindi un uomo che non si emanciperà mai effettivamente, un uomo che avrà sempre bisogno di certezze che non potrà mai trovare da solo. Quindi un antropocentrismo che va a morire a favore invece di un teocentrismo in questo caso, appoggiato ovviamente alla lezione della Chiesa. La Chiesa sempre di più avrà potere sugli uomini, avrà potere sulle coscienze delle persone, persone che viveranno sempre una vita fatta di effettivi problemi, potremmo dire così, di restrizioni, di sensi di colpa, insidi. Tu sei nato peccatore, tu compi comunque potenzialità di compiere sempre il male e tu da solo non potrai mai farci, tu devi essere sempre alla condizione servile nei confronti di Dio. Dio ti vuole bene però soltanto se tu segui i suoi dettami. Quindi vedete in che modo sta cambiando la società. Una società col tutto che non rispecchia più quell'ideale di categorie logico-matematiche e razionali che la filosofia aveva introdotto, una filosofia cristianizzata che mette al primo posto non la ragione ma la fede. Quindi la conoscenza che noi potremmo effettivamente avere può essere illuminata soltanto da fede, quella fede dell'assurdo secondo tertulliano e che Agostino andrà a certificare. E abbiamo oltretutto una divinità, un Dio che non è più familiare all'uomo ma sempre più lontano dall'uomo. Quindi un uomo che andrà sempre a cercare un qualcosa che sarà sempre lontano da lui. Quindi una continua ricerca, una continua ricerca forse nata di un uomo che non troverà mai pace, che gli verrà promessa questa pace ma soltanto se seguirà i dettami di quell'istituzione oramai consolidata che è appunto la Chiesa. Quindi ecco l'evoluzione, potremmo dire l'involuzione definitiva che oramai il cristianesimo sta prendendo. Ecco perché è importante concludere con Agostino per comprendere esattamente in che modo il cristianesimo ha cambiato inesorabilmente la società occidentale e lo cambierà per più di mille anni e da cui sarà effettivamente poi difficile staccarsi e quindi riuscire a distogliersi da determinate categorie che sono sempre state fissate per moltissimi secoli. Quindi questo era Agostino, il suo pensiero in soldoni e questa era la chiusura del cerchio e la chiusura ovviamente del periodo patristico e dell'apologetica cristiana antica. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito in questa abbondante mezz'ora. Vi ricordo per chi mi vuole seguire sui social sempre la pagina Facebook Esposito Francesco Scrittore, il mio canale YouTube Francesco Esposito e noi ci vediamo ovviamente alla prossima puntata. Vi ricordo che sulla pagina Facebook Esposito Francesco Scrittore entro la fine dell'anno verrà fatta una diretta in cui riordineremo diciamo così le ed eccederemo anche gli auguri di fine anno perché siamo comunque a dicembre 2020 perché ecco per chi ci sta seguendo indifferita e niente quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata di In Principio. Grazie ancora per avermi seguito, un caro saluto a tutti, ciao!